Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad. Sparo e so cose sullo sparare. Mi trovo di nuovo dagli amici di Power Gun ad Abbiategrasso, dove sto dando un'occhiata alla collezione che hanno qui in vendita proprio al pubblico. E quando ho visto che avevano messo l'annuncio su questo fucile, dovevo assolutamente sfruttare l'occasione per venire qui a parlarvene. Questo, infatti, è un R70, un R70 Sport in particolare. Moltissimi di voi saranno familiari con la R70-90, in particolare il modello che deriva da questa costruzione qui, ampiamente utilizzata nell'esercito. Ma anche la R70 ha avuto spazio nelle forze armate italiane e anche più tristamente in un famoso caso di cronaca nera, ovvero quello della banda della Uno Bianca, che proprio una R70 in calibro 2.2.2, il calibro è anche questo, un'altra storia, usava per le proprie rapine, per i propri assalti. Questa, quindi, è un'occasione per parlarvi un pochino meglio dell'arma, come nasce, perché vediamo ancora gli step intermedi. Non so se vi ricordate che la R70-90, anche se ha un aspetto che non lo fa ricordare, meccanicamente parlando, molto alla lontana deriva dal Kalashnikov. E proprio la R70 in realtà ha qualche caratteristica che, essendo antecedente al R70-90, lo ricorda un pochino in più. Ma andiamo in ordine perché voglio parlarvi della storia di quest'arma e anche della munizione, perché secondo me, essendo la prima volta in realtà sul canale che portiamo un'arma in 2.2.2, è un buon modo per accennare a questa munizione e a come nasce il successivo 2.2.3. Beretta e SIG già all'inizio degli anni Sessanta stavano collaborando insieme. Infatti la SIG aveva prodotto un interessantissimo fucile da battaglia, che è quasi una mitra di attrice leggera, che è il SIG 510, che abbiamo anche recentemente visto sul canale. A quest'arma erano interessate varie nazioni, tra cui il Cile, per esempio, e la SIG firmò un contratto per la produzione di questi fucili per l'esercito cileno. Solo che in quel preciso momento non avevano la capacità produttiva per andare a fare questo contratto. Si rivolsero così a Beretta, che produsse per loro questi fucili. In realtà quindi questi fucili, questi SIG cileni, che sono marchiati appunto SIG, in realtà sono stati tutti quanti prodotti dalla Beretta, anche se non c'è il loro nome sopra, una cosa abbastanza dimenticata. Possiamo considerarlo un po' un'arma italiana, tra virgolette. E dopo questo progetto però, dopo il successo di questa produzione, ovvero in qualche modo far produrre a Beretta mosare il nome SIG svizzero per l'esportazione, che le due aziende iniziano un programma insieme per sviluppare un'arma pensata proprio appositamente per l'esportazione. Non solo per un'esportazione qualunque, per l'esportazione in quei paesi che potremmo definire non allineati o allinati più che altro con il blocco orientale o comunque facenti uso della cartuccia sovietica, la 7,62x39, nei caricatori dell'AK. Nasce così un progetto che ricorda molto il Kalashnikov, perché doveva andare a ricordare il Kalashnikov, perché doveva essere venduto a nazioni che proprio quest'arma stavano utilizzando. Con grossi cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la costruzione, un totale riposizionamento della molla di recupero, che non era in realtà più dietro produtturatore, ma davanti, intorno al pistone al gas, uno smontaggio più semplice dell'arma, facendo in modo che ci sia un upper, un lower, a differenza della K, che utilizza un castello con una top cover, proprio per il montaggio di ottiche. Questa ottica qui che vedete è un'ottica sportiva originale della Beretta, come era venduto su questo modello sport. Lo sviluppo di questo sistema d'arma si fermerà, le due aziende si separeranno e entrambe andranno a finire in realtà questi progetti in maniera del tutto separata. La SIG con il SIG 530, il SIG 540, un'arma ancora oggi in dotazione in Svizzera, e ovviamente l'Italia col Beretta R70. Tra l'altro le due armi sono estremamente simili da molti punti di vista. L'abbondante uso della lamiere, che era ormai una tecnologia affermata, fa sì anche che rispetto al 510 precedente l'arma è relativamente leggera. Relativamente, molti si lamentano che gli R70 e R70 in particolare sono pesanti. Un accenno va fatto alla munizione, perché come ben sapete all'epoca in Italia, ma anche in tanti altri posti del mondo e d'Europa ancora oggi, il 223 è considerato un calibro militare e quindi illegale. La munizione 223 deriva essa stessa da un'altra munizione, la 222. Fu una munizione creata da zero, in realtà quindi non deriva da alcun'altra munizione, creata da un ingegnere della Remington, un certo Mike Walker, che in realtà fu un ingegnere importantissimo, un pochino dimenticato da un certo punto di vista, ma fece delle cose particolarmente influenti. Oltre a sviluppare la 222, che è un antenato da 223, la storia racconta che Eugene Stoner e l'arma light cercavano appunto di far sparare loro a R15 con pressioni un po' più alte nella 222, ma non si adattava molto bene questa cartuccia, questa velocità maggiore ricercata. Così la Remington aumentò di 2 mm la lunghezza del bossolo, ma era quanto bastava per far comportare la munizione meglio. Nacque così la 223, che in una sua forma poi venne adottata come 556 Nato. Ma questa 222 nacque in particolare perché questa persona era un grande tiratore di bench rest e voleva delle munizioni e delle armi molto precise. Progettò appunto specificamente la 222 per avere un tiro molto teso e preciso entro una certa distanza, che è quello che poi si vuole dal bench rest, anche perché si spara a distanze conosciute, ma la munizione che era anche adattabilissima a caccia a media selvaggina. Non lo sapete ma Mike Walker ha fatto anche altre invenzioni molto famose, una di un'arma, il Remington 700, fu la persona che guidò lo sviluppo del Remington 700, che è in assoluto uno dei più popolari e famosi fucili bolt action. Abbiamo un vecchissimo video sul Remington 700 sul canale se lo volete recuperare. Ma pensate, non l'ha inventato, ma l'ha perfezione per la Remington, la brocciatura delle canne. Se non sapete di che cosa sto parlando, la brocciatura è una tecnica per eseguire la rigatura alle canne che è oggi il metodo più utilizzato in assoluto negli Stati Uniti d'America e nel mondo in realtà per rigare le canne. Lui non l'ha inventata assolutamente, ma l'ha perfezionata la Remington. Il metodo sviluppato della Remington, sotto guida appunto di Mike Walker, è quello più utilizzato al mondo ancora oggi. Quindi in realtà è una persona molto influente per quanto riguarda la costruzione delle armi. Ora possiamo unire questa nostra storia insieme. Sappiamo la genesi della R70, sappiamo la genesi della 222. Non si poteva avere armi in 223, ma niente impediva appunto che tale arma venisse sviluppata in questo calibro. Le dimensioni sono davvero simili anche perché una è più lunga dell'altra di un paio di millimetri. Quindi le armi appunto per il mercato civile, che normalmente sarebbero in 223 per quello militare, possono essere facilmente adattate a questo calibro. Facciamo quindi una cosa. Spostiamo la telecamera, diamo un'occhiata da vicino a com'è fatto questo AR70 e poi noi concludiamo la storia. Eccoci qua a dare un'occhiata a questo stupendo AR70. Diamo innanzitutto un'occhiata alle scritte. Ricordatevi che questo, come ben scritto qui, è un modello AR70 Sport, viene anche sottolineato il fatto che è in 222 Remington. Quindi se magari ce l'avete avuto sotto militare, un vero AR70, un puro AR70, potreste notare delle piccole differenze. Anzi, fatemene sapere nei commenti. Abbiamo visto in questo momento le scritte dell'arma. Davanti, allora, iniziamo il tour dell'arma. Come vedete, in questo caso l'arma manca di un attacco per la bavinetta. Troviamo il blocco del gas che ha anche il mirino e il primo punto di attacco per un cinturone. Dal blocco del gas ovviamente parte il tubo del gas che contiene anche la molla di recupero e qua sotto abbiamo un bipiede, un accessorio molto utile, a mio avviso, per tante operazioni diverse, sia per appoggiare l'arma, per lasciarla così non a contatto con il terreno quando ci stiamo riposando o queste cose simili, ma anche per sparare con maggiore precisione. Ovviamente questo modello abbastanza evidentemente ha la sua ottica sportiva beretta originale che viene inserita su questa piccola slitta. Muovendo questa chiave può essere rimossa per esempio per utilizzare gli organi di mira metallici. Organi di mira metallici che consistono sotto qua l'ottica in una diotra. Regolabile in realtà in due posizioni diverse, 150 e 300 metri, anche perché la munizione è fatta per tirare in realtà quelle distanze, ma come del resto gli scontri a fuoco moderni sono più o meno a quelle distanze. Abbiamo poi la sicura dell'arma, in questo momento abbiamo il colpo singolo, ovviamente non abbiamo l'automatico, e la posizione di sicura ruotando questa leva in basso. Da qui anche possiamo dare un'occhiata a quella che è la caratteristica più evidente forse meccanica che separa il 70-90 da un vero 70, ovvero il caricatore. Il caricatore non è un caricatore stanag, anche se è molto simile a quel caricatore. Solo il 70-90 avrà la compatibilità con gli stessi caricatori del M16 che vengono inseriti per dritto. Questo caricatore invece, come quello per esempio del Kalashnikov, da cui allontana quest'arma deriva, è uno Zinrog back, ovvero quindi per inserirlo dobbiamo mettere prima il davanti e poi il dietro. In questo momento questo caricatore, vi dirò, è un pochino duro a entrare, ma ripeto può essere il fatto che questa è un'arma sportiva quasi non utilizzata ancora. Di nuovo per rimuoverlo basta premere questa linguetta, è proprio come il caricatore di un Kalashnikov, prima il dietro e poi il davanti. Per rimetterlo, dimostriamo di nuovo, prima davanti e poi entra il retro. Quindi questa è una delle differenze più evidenti tra le due armi, non hanno compatibilità dei caricatori. Giriamo l'arma dal lato destro, dal lato destro non troviamo replicati i comandi, questa è un'arma prettamente solo per destra e non ambidestra, troviamo però abbastanza evidentemente la maniglia di caricamento del portootturatore. Il portootturatore che scorre in questo canale, questa maniglia ha qui sul retro una porticina che si chiude e si apre anche automaticamente quando si va a azionare l'otturatore. Otturatore che come vedete rimane in posizione di hold open quando il caricatore è inserito. conosciamo bene questa caratteristica anche dagli R70. Rimuovemo un attimo il caricatore perché dall'altro lato qui si può premere l'hold open. Hold open che come sicuramente ben sapete quando premuto va a chiudere l'arma. Possiamo dare un'occhiata all'otturatore dell'arma anche banalmente per la pulizia in una maniera molto semplice. In un metodo che ricorda tantissimo gli R15 abbiamo questo perno che tiene il upper con il lower. Abbiamo poi un perno qui più davanti ma è tenuto con due seeger e normalmente non andrebbe rimosso, non è necessario strettamente rimuoverlo. Quindi possiamo spostare questo perno all'infuori che come vedete rimane all'interno dell'arma e far basculare le due parti insieme. Ora ovviamente l'otturatore ancora non vuole uscire con le parti in movimento perché vi è tensione sulla molla. Ci possiamo aiutare con un attreccio per lo smontaggio universale molto semplice come una penna. Normalmente questo si farebbe magari con la punta della munizione. Tirando indietro come vedete questa linguetta posso andare a rimuovere la maniglia di caricamento. E ora finalmente avendo disconnesso il porto otturatore da qui come vedete questo è in realtà il pistone del gas e intorno adesso ci sta la molla di recupero. Spingendola leggermente in avanti e facendolo ruotare possiamo anche rimuovere l'otturatore stesso dell'arma. Come vedete in realtà ci rimane un percussore un po' danzante. Attenzione qui soprattutto a rimontare l'arma perché è tenuto dal suo perno. Ma come vedete questo allontana per certi versi è una cappa. Forse altri ricorderà più l'otturatore del Garand. Ma le somiglianze tecniche sono assolutamente simili. Abbiamo di nuovo qui un porto otturatore. Immaginatevelo col pistone del gas che avvolge quasi del tutto l'otturatore che ha la sua camma diagonale per compiere la rotazione di 90 gradi con due grossi senoni di chiusura. Qui l'estrattore fisso da un perno e l'espulsore fisso. Tipiche caratteristiche dei Kalashnikov. Possiamo rimettere insieme poi l'otturatore per andarlo a inserire l'arma. Qui abbiamo la posizione sbloccata e poi la posizione di chiusura con l'otturatore quando viene spinto indietro. Come vedete in questa posizione può protrudere il percussore dell'arma stesso. Rimontare il tutto ovviamente è molto semplice. Possiamo reinserire il nostro otturatore e in tal maniera potremo andare a inserire il porto otturatore con l'otturatore all'interno dell'arma stessa. Spostando il tutto in avanti possiamo così andare a mettere la nostra maniera di caricamento. E possiamo in tal maniera con il pin chiudere l'arma molto semplice. Eccoci qua abbiamo visto da vicino come è stata fatta quest'arma. Ebbè già come accennato in precedenza un'aduzione limitata. Molte però persone, molti veterani, molti ancora membri in servizio attivo hanno avuto a che fare con quest'arma. Fini per esempio gli incursori del Comso Bin, al battaglione San Marco. Ma in particolare forse i più numerosi finirono alla vigilanza armata dell'aeronautica. Quindi è tutto quel personale dell'aeronautica militare che deve sorvegliare e difendere gli aeroporti e le installazioni dell'aeronautica militare. Un ruolo assolutamente fondamentale sia in tempo di pace che in eventuale tempo di guerra. Quindi questa è comunque un'arma che è finita nell'esercito italiano. E anche grazie al fatto appunto che la R70 finì l'esercito italiano, che fu uno dei fattori che convinzero poi nel 1990 all'adozione del 70-90. Perché il 70-90 non è nient'altro che appunto quest'arma che abbiamo appena visto, adattata però a esigenze NATO e del campo di battaglia moderno. Grazie a tutti per aver visto questo video e ringraziamo innanzitutto chi rende possibili questi video come l'armeria Powergun di Abeta Grasso, che ovviamente mi mette qui a disposizione uno spazio e le armi per poter filmare. Se vi interessa questo stupendo AR70, saprete dove trovarlo. Non posso linkare per le regole di YouTube, ma è abbastanza facile da trovare. Se volete sostenere attivamente il canale, considerate abbonarvi o per esempio comprare le stupende magliette, comprare Sound Vlad che benedirà le vostre armi e risolverà ogni malfunzionamento. Se non volete o non potete, considerate iscrivervi, lascerà un like e un commento. È assolutamente gratuito, l'iscrizione la potete sempre levare se offrendo la vostra arma preferita e aiuta immensamente l'algoritmo di YouTube che non ama affatto, soprattutto ultimamente, le armi da fuoco. Da me è tutto, noi come sempre ci vediamo alla prossima.